Castelsardo per questo fine settimana è stata eletta capitale dei borghi più belli d'Italia in quanto ospite di una partecipatissima assemblea dei sindaci rappresentanti degli altri centri della rete fra i quali anche diversi borghi sardi. L'apertura della tre giorni ha visto partecipi nella sala del Castello anche i rappresentanti istituzionali della regione diversi esperti d'arte e giornalisti, professionisti del turismo alternativo. È la 27esima assemblea nazionale che si tiene nell'anno dei borghi 2017, l'anno del turismo sostenibile. È un modo, è un momento per parlare di sostenibilità, di come le comunità che sono l'elemento più forte poi nei nostri borghi d'eccellenza possano contribuire a creare quella che è la destinazione turistica regionale in un'ottica ovviamente di complementarietà rispetto al balneare. La rete dei borghi più belli d'Italia rappresenta infatti uno dei progetti per dare forma al cosiddetto terzo asse del turismo a fianco di quello delle città d'arte e del balneare. Tra le presenze da segnalare è quella del critico d'arte e divulgatore televisivo Filippo D'Averio. Ricordatevi che grazie ai borghi siamo diventati anche borghesi, non siamo più stati contadini e basta. I borghi sono una concentrazione di una sorta di passato che si rivela pezzettino per pezzettino e che ha il grande vantaggio di non essere ferocemente didattico. Ognuno porta a casa quello che è in grado di capire. Fra le iniziative per valorizzare il borgo anglonese, una rassegna estemporanea di scultura che metterà all'opera 12 artisti, tra i quali la starred David Davù Vecchiato, che sotto la direzione artistica di Vittorio Sgarbi abbelliranno la piazza della Fontana. Sarà lo stesso Sgarbi a svelare i segreti estetici di famosi autori sardi, le cui opere sono esposte nelle sale del castello, Maria Lai, Costantino Livola, Giuseppe Biasi ed Eugenio Tavolara. La manifestazione si concluderà domenica con diverse rappresentazioni a tema medievale con costumi ed armi dell'epoca.